Gentili telespettatori, buona giornata. E anche Elsa Fornero ha la sua ricetta su pensioni e su migranti. Allora, è un intervento di qualche tempo fa nel programma L'aria che tira su La7. E Elsa Fornero dice che spira un'aria di controproducente nostalgia del passato nel nostro paese, a destra come a sinistra. Lo scrive Elsa Fornero in un articolo pubblicato qualche tempo fa su La Stampa. E dice, aggiungendo, che la sinistra si esprime con la proposta di referendum sub job act. Un referendum promosso dai sindacalisti che nel caso di Vittoria riporterà in vigore uno strumento di protezione dei lavoratori, l'articolo 18, che pur nato meritoriamente aveva nel tempo mostrato grandi limiti di applicazione, contribuendo a quella segmentazione del mondo del lavoro tra protetti ed esclusi. che ha penalizzato soprattutto giovani e donne. Anch'io non sono d'accordo sul ritornare all'articolo 18, eccetera, eccetera. Oggi il problema non è la tutela dell'articolo nell'articolo. Il problema sono gli stipendi da terzo mondo. E' questo il problema. Inutile girarci intorno, articolo 18, tempo indeterminato, aumentano i posti di lavoro, mezzo milione, wow, wow, wow. Il problema è il lavoro povero. Oggi chi lavora è un povero. Gli impiegati oggi fanno parte della categoria dei poveri. Dici, che lavoro fai? Beh, lavori in ufficio lì. Ah, ho capito, sei un povero. Come? Cos'hai detto? No, no, niente, parlavo da voce alta. Volevo chiederti se volevi venire in vacanza, però non ti preoccupare, lascia stare. No, ma vengo. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ecco. Chiaro? Quindi il problema non è la difesa o no del contratto. Il problema è quanto guadagni. Poi aggiunge Elsa Fornero, che a destra, oltre ai condoni più o meno mascherati, che anziché indurre a maggiore osservanza delle norme, ne incoraggiano l'aggiramento, si ripropone l'abolizione della Fornero. Allora, i condoni, se tu non paghi le tasse, io ti dico, vabbè, dai, ti condono tutto. Hai fatto un abuso edilizio? Eh, vabbè, dai, non ti preoccupare. Quindi, sei un mezzo, eh? Non paghi le tasse, ti fai gli abusi edilizi, ma non ti preoccupare. Mettiamo tutto a posto, ti cancello gli abusi edilizi, ti cancello le tasse che non hai pagato, le multe che non hai pagato e ricominciamo da capo. Eh? Così mi voti. Però, poi ricominciamo da capo, secondo voi, il personaggio che non paga le tasse e fa gli abusi edilizi, se tu gli fai un condono, quello lo rifarà ancora? Certo, e anzi, farà molto di più, perché dirà tanto arriva sempre qualcuno che poi non mi fa pagare niente, quindi stavolta non pago proprio nulla. Questo è l'effetto del condono. La pace fiscale, la pace edilizia, togli la parola pace e diventa un volgarissimo condono alla faccia di tutti quelli come voi che hanno pagato le tasse e le multe. Funziona così, no? Cioè, funziona così. Non dovrebbe essere così. Quindi, con doni più o meno mascherati, è ovvio. La Fornero dice che vogliono cancellare la sua legge chiamata Fornero, ma non può essere cancellata la Fornero. Perché? Intanto, da quanti anni è che c'è la legge Fornero, che è attualmente oggi la legge pensionistica italiana? C'è da quanti anni? 15, come? Proclami, cancelliamo la legge Fornero, torniamo indietro. Nessuno l'ha mai fatto. Perché? Secondo voi, perché nessuno ha mai cancellato la legge Fornero? Forze oscure, misteriose. Ah, semplicemente perché non lo puoi fare, perché il sistema pensionistico è al fallimento, ci sono più pensionati che lavoratori in molte zone d'Italia, sono più i soldi che escono per le pensioni di quelli che entrano con le tasse sul lavoro, pertanto il sistema pensionistico va verso una strada che è quella di abbassare l'assegno e aumentare l'età pensionabile. Non perché la Fornero è cattiva o quelli che sono veniti dopo erano cattivi come la Fornero. Qui non c'è nessuno che è cattivo. Non facciamo dei discorsi sempliciotti da basso livello. La Fornero non è cattiva. La Fornero ha fatto una legge che poi nessuno è più riuscito a cancellare perché non si poteva fare altrimenti. Quindi non c'è una Fornero che è la regina del male, che ce l'aveva con gli italiani, si voleva vendicare di chissà che cosa. Semplicemente non si poteva fare altrimenti. Questo l'avete capito, no? E infatti non si può cancellare questa legge. Anzi, ci hanno provato e poi facciamo poi il 41, il 42, il 43, il 45, Tombola. Hanno cercato di fare, di mettere delle cose provvisorie che erano solo delle cose a termine, no? Ti faccio andare in pensione 15 giorni prima, ho cancellato la legge Fornero, però ti faccio andare in pensione 15 giorni prima, fino al 31 dicembre, poi ritorna la legge di prima perché non si può fare altrimenti. Quindi, inutile prendere in giro gli italiani, non c'è nessun cattivo che ce l'ha con gli italiani, con la legge delle pensioni, semplicemente avete visto che in 15 anni nessuno è riuscito a cambiarla, perché non puoi tornare indietro. Non ce la fai. Paghi più pensioni ed entrano meno soldi. Il sistema è in fallimento. Per riequilibrarlo non puoi ridurre l'età. Ti mando in pensione a 57 anni come una volta, no? Ti mando in pensione a 77 anni. Quindi non c'è qualcuno che ce l'ha col pensionato, o il prossimo pensionato, ce l'ho con te, adesso ti faccio lavorare 10 anni in più. Ma che film avete visto? Non c'è nessuno che ce l'ha con nessuno. È uno Stato mezzo fallito, col suo sistema pensionistico mezzo fallito, in via di fallimento totale, che non può far altro che così. Naturalmente la Fornero dice quello di cancellabolizione della legge, chiamata impropriamente Fornero, ma c'è un numero, è un obiettivo chiaramente irrealizzabile, a meno che di una corsa sconsiderata verso il precipizio finanziario, evitato con i sacrifici degli italiani nel novembre del 2011, nel quale i risparmiatori vedrebbero polverizzati risparmi e pensioni. perché il governo potrebbe anche da domani dire che si va in pensione a 52 anni. Che dite? Poi lo Stato fallisce, non si pagano più le pensioni, non si pagano più i dipendenti pubblici, non si pagano più i titoli di Stato. Cioè, lo Stato può farlo. Domani dice, da adesso in poi si va tutto in pensione a 57 anni, come tanto tempo fa. solo che da lì a due, tre, quattro mesi il sistema Italia fallisce, andiamo in fallimento e la situazione poi diventa terribile per tutti. Si può fare. La Fornero dice, volete fare? Lo potete fare? Poi l'Italia va nel precipizio finanziario. Poi la Fornero parla del mercato del lavoro, ma questo ve lo racconterò un'altra volta. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.